Jorge Saucedo, European Athletics Council Member. Jorge Saucedo, a premiare a parte del Consiglio della Federazione Europea. Bronze medalist, representing Russia, Alexei Ryunkov. Alexei Ryunkov, medaglia di bronzo per lui, in un'edizione non particolarmente formidabile della squadra russa. Qua è la sempre più difficoltà, tre medaglie d'oro, tante di bronzo, 12, ma 3-6-12, oro-argento-bronzo, con molte delusioni, soprattutto con certe squadre femminili. Il polacco di origine etiopica, Jared Shegumo. E Daniela d'Argento per lui. Il polacco e Meucci sono gli unici due che hanno corso tutti i 5.000 metri, le frazioni di 5.000 metri sotto i 16 minuti e quindi alla fine sono stati quelli che hanno distribuito meglio. Daniela Meucci. Le stand for the national anthem of Italy. Un bel salto, terzo e secondo prima, in tre edizioni degli europei. 10.000, 10.000, maratona. Senza accessi a livello giovanile. Grazie. 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 Grazie a tutti. E piace questa vittoria di Daniele Meucci che qui suona la chitarra nella fase finale. Non si è sentito il tenore di Monsenzi? Un po' sì? Sì, sì, sì. Meno dei giorni scorsi? Sì, ha perso la voce. E questa è la grande vittoria di Daniele Meucci.